ciao ragazzi oggi saxo beat abbiamo riadattato tutto l'evento perché purtroppo oggi piove siamo a casina di poggio della rota abbiamo allestito una postazione con cui faremo l'aperitivo e i balli una postazione in esterna per fare il taglio torta una postazione con cui faremo tutta il dinner show durante la cena completamente in sicurezza in modo da non far vedere nessun tipo di cavo e abbiamo allestito anche una colonnina in esterna per proiettare appunto all'esterno l'audio dell'aperitivo in modo che gli ospiti possano godere dell'audio anche se sono fuori perché purtroppo oggi le condizioni atmosferiche non ci hanno aiutato non ci hanno aiutato un po' di più non ci hanno aiutato un po' di più non ci hanno aiutato un po' di più ok allora invitiamo tutti i gentili ospiti a sedersi e accomodarsi perché a brevissimo ci sarà l'ingresso dei nostri ragazzi facciamogli un grandissimo applauso eh! no 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 Grazie a tutti